Buon sabato 13 giugno per la città dove abito Padova oggi è festa patronale il patrono di Padova è Sant'Antonio e quindi non solo è un'occasione di condividere anche se ci troviamo in luoghi diversi una dimensione festosa indipendentemente sapete dal credo religioso delle persone non ha importanza sono quelle dimensioni religiose che assumono una valenza culturale ma prima di tutto naturalmente gli auguri a tutti coloro che hanno il nome di Antonio, Antonia o diverse declinazioni di questo nome alcune di quali immagino si riconosceranno anche nella immagine di questo santo che magari conoscono molto poco e anche naturalmente l'augurio va a tutti coloro i quali non essendo credenti appartenendo ad altre forme religiose hanno e questo stesso nome lo condividono. Il nome è molto importante ci caratterizza fin dalla nascita noi siamo chiamati attraverso il nostro nome prima ancora di avere consapevolezza della data della nostra nascita cioè il compleanno prima di tutto noi siamo evocati e riconosciuti attraverso il nostro nome che ci può piacere o non piacere a volte crea anche delle difficoltà il nome che ci è stato attribuito. Ed è un santo Sant'Antonio che non solo ci riporta alla sobrietà francescana ma anche alla pellegrinare su questa terra al riconoscimento di abitare un pianeta che è una unità globale rispetto alla quale gli umani pellegrini viandanti perché così noi siamo nati siamo nati per camminare per esplorare per muoverci però a un certo punto nella nostra evoluzione abbiamo ben pensato di tracciare confini arbitrari di creare stati nazioni di enfatizzare la diversità non riconoscendo l'altrui diversità come un elemento che concorre con la nostra alla vitalità del pianeta perché le diversità che ci caratterizzano non corrispondono naturalmente a quella fesseria che hanno chiamato razze non corrispondono assolutamente a una incompatibilità tutt'altro è proprio in quella biodiversità che linguistica culturale gastronomica climatica nella quale ci troviamo a vivere in quella biodiversità accogliamo questa enorme ricchezza che alimenta il senso della vita e nella biodiversità c'è anche la modalità espressiva diversa che ognuno di noi assume nel corso della propria esistenza e anche rispetto a se stesso è una diversità che si esprime in momenti diversi del nostro vivere a questo mondo nel senso che magari ci riconosciamo timidi nella prima infanzia poi nell'adolescenza abbiamo sviluppato una certa temerarietà e poi siamo diventato forse un pochino pensosi ponderati ma poi nella vecchiaia riprendiamo tratti che avevamo già riconosciuto nella nostra evoluzione e tutto questo ci permette di non essere fissati in un fotogramma che ci rappresenti in modo definitivo quello che purtroppo molto spesso una sapere professionale quello della psichiatria è tentato a fare tentato a identificare l'essenza della persona in un momento del suo divenire senza riconoscere che si trova di fronte come per tutti gli esseri umani in un soggetto incostante divenire e se la psichiatria avesse riconosciuto questo da un punto di vista fenomenico di ciò che vede ciò che incontra naturalmente si sarebbe posta alcune domande perché quella quei confinamenti arbitrari che distinguono razze che distinguono nazioni che distinguono macro aree geografiche quelle forme distintive che separano dividono purtroppo hanno caratterizzato anche le discipline che si sono chiuse nei loro confinamenti nei loro saperi specialistici sempre più parcellizzati pensate alla questione dell'epidemia del del coronavirus abbiamo scoperto che non ci sono solo gli infettivologi anzi non ci sono solo i medici ci sono gli specialisti di una parte piccola ma importante del rapporto tra gli esseri umani e l'insieme complesso della natura dentro la quale albergano anche i virus e questi sono i virologi ieri sera mi è capitato di sentire una telegiornale che esistono anche i vaccinologi cioè una altra sottocategoria che si è specializzata in maniera esclusiva su una tecnica importante frutto di un grande progresso di conoscenze ma che si concentrano prevalentemente sui vaccini quello che mi chiedo se il vaccinologo si pone alcune domande che secondo me sono fondamentali e che poi alla fine se non si dà la risposta finiscono per desertificare la conoscenza e lasciare libero spazio a forme un pochino deliranti che accompagnano alcune forme populiste come i inovax in maniera assoluta per esercitare il pensiero critico è necessario che questo vaccinologo si ponga delle domande cioè qual è il senso per quale ragione dovremmo essere tutti vaccinati alla prossima stagione autunnale nei confronti dell'influenza perché queste sono le idee le informazioni che incominciano a girare quello di proteggerci in maniera assoluta blindata per non esporci al rischio del contatto con la natura vedete il ragionamento rispetto all'inizio della pandemia dell'epidemia del lockdown come l'hanno voluto chiamare di questa chiusura totale delle barriere anche questa bisognerebbe aprire un ragionamento su questa dimensione propositiva di tutela della salute pubblica sicuramente ha una qualche valenza positiva ma attenzione a non assolutizzare la scelta dobbiamo aprire un ragionamento avere il coraggio di guardare dentro a quella a quel mistero nel quale ci siamo trovati improvvisamente sprofondati ebbene siamo sicuri che blindarci in maniera assoluta rispetto al rischio che corriamo nella dimensione della natura ci proteggerà in maniera assoluta rispetto a quella dimensione di aggressione che abbiamo fatto della natura in nome del profitto qui c'è un ragionamento molto semplice da fare che riguarda come stiamo noi tornando a quella presunta normalità della quale siamo diventati dei cultori nostalgici nell'arco di soli tre mesi perché non è passato tantissimo mese tantissimo tempo tre quattro mesi no qualcuno si è illuso che noi avessimo cambiato radicalmente il nostro stile di vita il nostro pensiero il nostro modo di vivere qualche altro addirittura ipotizza che dobbiamo allenarci a tornare a essere quello che eravamo prima ma molto pochi molto pochi riescono a assumere ciò che è accaduto e iniziare un cammino trasformativo per non tornare quello che eravamo fino a poco tempo fa e mi soffermo su un aspetto particolare che non è di natura specialistica ma è di natura antropologica esistenziale. Ieri avevo accennato il fatto che quella affermazione idealizzata dell'uno su mille ce la fa uno su mille ce la fa e che gli altri 999 naturalmente rappresentano una massa più o meno di falliti perché non sono riusciti a fare quello che è riuscito a realizzare quell'unico è chiaro che è un valore simbolico non sono numeri precisi ed esatti e che questi 999 fossero portatori di una verità che contraddice la visione e il successo di quell'unica persona che trasportato poi nella organizzazione della nostra società i pochi ricchi che oggi si spartiscono il bottino rappresentano una distorsione dell'economia, dell'antropologia, dell'equilibrio mentale in favore di un egocentrismo esasperato e che i 299 sarebbero virtuosi coltivatori della bene comune, della solidarietà, di una particolare sensibilità esistenziale. Questo mi è stato fatto notare con intelligenza da una persona che mi voleva sottolineare una cosa sacrosanta che in un primo momento francamente non avevo capito. Guardate a me capita spesso in un primo momento di non capire di cadere nella trappola istintuale di voler confermare le mie convinzioni quando sono messe in discussione dalle discussioni altrui. Mi sento un po' perturbato e devo dire che come tutti gli esseri umani che abitano questa terra quando si viene perturbati si reagisce in maniera conservatrice. Ritengo che questo sia naturalmente un mio specie difetto intrinseco ma non per consolarmi penso di condividerlo con tante altre persone. Per favore non perturbateci ma ringraziamo Dio che qualcuno ci perturba. In questa distinzione un invito a non perturbarci, a ringraziare Dio perché qualcuno ci perturba c'è la cifra di quello che vi sto per dire. Nel senso che effettivamente nei falliti, nei perdenti, nei devianti, nei depressi, negli alcolisti, nei tossicodipendenti, in quelli che arrancano e fanno fatica, non vi è necessariamente la rappresentazione di una particolare sensibilità e neppure vi è la garanzia che la loro condizione rappresenti l'adesione a una visione corretta della vita, rispettosa del bene comune, del rispetto della natura, dell'ecologia, dell'adesione alla visione ecologico-sociale antropo-spirituale, cosa che naturalmente molto spesso anche nei club viene immaginato. Vado nel club, aderisco a questa espressione linguistica, ecologia sociale-antropo-spirituale, non mi preoccupo di approfondirla, penso di essere virtuosamente astinente dall'uso delle bevande alcoliche oppure di aver trovato serenità nell'animo e sono sicuramente migliore degli altri. Perché? Perché io finalmente, illuminato sulla via di Damasco, ho capito. Ma guardate non funziona così, nel senso che non vi è una sensibilità particolare, ma vi è una particolarità di una parola che ci trascende e che attraverso la cifra del falimento, che è presente in gran parte dell'umanità, ci sta parlando di una conversione necessaria di tutta l'umanità, non solo di quell'unico che ha avuto successo, perché non dimentichiamoci che quell'unico che ha avuto successo, ma potrebbe essere anche il virtuoso consumatore di bevande alcoliche, che non riesce a produrre danni a se stesso, gli va bene, tutto sommato, nonostante l'abbiano allertato, continua bene, non gli accade assolutamente nulla e naturalmente viene guardato quasi con invidia da chi invece eccede, tra virgolette, quello eccedere, perché per me, lo sapete, eccedere significa consumare in maniera critica, fossero anche piccole quantità e impedirsi della possibilità di scegliere tra consumare e non consumare e pensare che questa è una questione che riguarda solo gli alcolisti. Ebbene, quella persona che vive in sé una parola che per i credenti naturalmente è parola di Dio, non è parola di uomini e che abita in tutti gli esseri umani, tutti ugualmente dibattuti dal dubbio, attratti da una istanza egocentrica e che possiedono l'ambivalenza della volontà e dell'idea della potenza. Tutti questi ingredienti sono presenti in tutti gli esseri umani, depressi, alcolisti, presunti normali, tutte condizioni che ci tentano costantemente nell'arco di tutta la vita. Per i credenti ogni persona che incontro e viene enfatizzato naturalmente l'estremo della devianza e delle condizioni umane che rappresentano non certo la cifra del successo che viene immaginata dalla posizione egocentrica. Ebbene, in questi in particolare, soprattutto nei poveri, troverete Dio, ma non perché Dio sia solo nei poveri, nei depressi, negli alcolisti. Dio in tutti per il credente. È una immanenza nell'antropologia, è un Dio incarnato per il credente. Adesso non entro nel dettaglio di queste dissertazioni, faremo magari nel corso del tempo. E lì si alza più forte la voce. Ma attenzione, non facciamo una idolatria dei depressi, degli alcolisti e dei tossicodipendenti, perché in questo modo li trasformiamo in icone, in rappresentazioni che li confinano nella loro stessa condizione, non ne verranno più fuori. Se prima le etichettavamo in maniera negativa, etichettandoli in maniera positiva gli impediamo un processo di liberazione, soprattutto dalle proprie istanze egocentriche, che appartengono a ciascuno di noi. Quindi l'ascolto nei confronti di quella voce, che è per i credenti voce di Dio, ma per coloro i quali non credono in una divinità trascendente, ma che credono naturalmente nella trascendenza del creato e della natura, lì si esprime con forza la voce di Dio o della vita comunque, che ci sollecita attraverso le forme estreme della devianza. Ma, ripeto ancora e preciso, proprio in virtù di quello che ho capito da questa persona che mi ha sollevato un dubbio legittimo, intelligente, che non avevo capito, facciamo in modo che quella voce che si alza forte attraverso quelle persone sia qualcosa che ci turba e ci spinge a una relazione d'amore con i depressi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, e i devianti, sollecitando ciascuno di noi insieme, tutti indipendentemente dalle nostre condizioni esistenziali, di ascoltare quella voce che è immanente e trascendente allo stesso tempo, è dentro alla persona, ma non è consapevolmente espressa da quella persona. E mettiamoci tutti fecondamente in crisi, cioè apriamo uno squarcio che faccia entrare la luce e che ci aiuti in qualche maniera a prendere in mano la nostra esistenza con perseveranza perché il fallimento diventi il luogo di catarsi di liberazione rispetto a alcune condizioni suggestive che fanno immaginare che il successo della vita corrisponda al profitto, al possesso e alla capacità di dominare sugli altri. Buona giornata a tutti.